buongiorno a tutti ragazzi siamo ancora suncharted abbiamo finalmente scoperto libertalia e cos'è che devo fare ma vabbè peccato ma andiamo avanti lo stesso dovremmo andare vedete quei due cosi lì a testa come si chiamano quelli la dobbiamo andare su quelli aspettate che ha una quest per me ma non dobbiamo farlo lì vabbè fa niente andiamo avanti lo stesso di qua vabbè lì non serve ecco qua c'è qualcosa codice vabbè anche le regole qua che strano quindi su belle scale le spaccate e forse posso possiamo di piano quindi è una più nodo più su peso che chiusa si potrebbe benissimo sfondare ma vogliamo tenerlo in ordine no cos'è questa chi è un contenitore di qualcosa se non sbaglio qua qua ci sono ancora delle bottiglie e torniamo giù e qua avevo visto un tunnel che infatti un po' sospetto e no sospetto non c'è niente cos'è questo? ha una mucca morta o qualcosa di simile almeno non so proprio dove andare non devi andare su ecco qua è scappato quindi proviamo ad andare di qua ecco qua c'è un passaggio non sbaglio qui dovrebbe esserci un passaggio esatto ah non posso passare qua peccato voglio andarci lì io quindi qua non si può lì neanche e allora ah c'era un buco che c'è scritto ah no no non si può e che cavolo e dove vado? mi sono perso allora che ne so ah e lui mi segue ok proviamo proviamo siamo arrivati qui di qua forse ho qualche dubbio qui non segni no mi sa di qua si si qua c'è una statua di every appunto e c'è un simbolo che simbolo è questo? non è il solito quindi iiii ah là c'era una porta ma noi passiamo dalla finestra perché è una roba facile e passo dai come fai a non passarsi qua c'è un tesoro ogni città ha i suoi stranzi le celle cosa volete che ci sia le celle di certo non parti per l'altro e quindi dove vado? ci ripariamo io direi di passare sopra oppure qua c'è un'altra finestra stessa sono un po' rientronato e mi parlo sempre celle ancora nelle celle quindi mi sa che dovevo andare nella cella qua o no? no 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 su su e come ci vado là su? ma le toglie? dove sono le toglie almeno? dove sono? ma sono là ok quindi se non sbaglio qua c'è qualcosa di grodato e andiamo giù e di qua ecco qua qua tutto e qua c'è sotto c'è un tunnel bene tunnel sotterranei che portano a un nascondiglio da loro stessi guarda qui qua c'è sì si sembrava un passo per i tunnel quasi quasi ok ora sappiamo dove andare ok ancora simbolo cos'è quel simbolo? è ancora è lo stesso ma ok ok beh sì una setta segreta può darsi oh c'è tutto qui non possono mancare le sette e abbiamo sbagliato ancora quindi qua il ponte eh sì qua il tunnel è crollato quindi mi sa di qua mi sembra eh non vorrei sbagliare di nuovo ah ecco c'è una scala un altro tunnel anche le due tunnel cioè qua c'è una statua che era rodata con e ok ora cadiamoci vedo una luce là sotto una luce ok giù oh porca te lo via senti qui c'è un altro pezzo di colonia un altro pezzo di colonia ah altri edifesi ok qui c'è gente quindi meglio non scondersi aspettiamolo qua ok no è un po' facile no ci vedono da qua mi sa dov'è eh no 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 quello non si sta guardando dovrebbe tornare qui tra poco se secondo me spero di non fare casino quando uccido perché già ce ne sono tanti aspe ecco questa è sparta qua è sempre sparta si va bene ma si ho fatto un po' di casino eh 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 muovi fatto comunque prego l'ho ucciso dov'è aspetta se non sono due ucciso entrambi morto oh come se ne è uno di ero oh come ho fatto a prenderlo testa questa ha proprio un colpo secco e oh oh si è aumentata come cosa no fanculo dove va fermo ah morto ora abbiamo solo lanciare gramate siamo piuttosto fregati ah abbiamo preso spero ah bene ok ora ci serve infatti separiamoci che se non si credono no 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 ma che casino sta succedendo oh dobbiamo avvicinarci qua proprio tattico dai copermi la perfetto oh siamo riusciti da mazzardo speriamo che si sporca perfetto bene andiamo colpetti non grafiche incontrollate è così o lo aspetti quando appena sporge quando sporge il mignolo morto cosa ah per fortuna mi servivano munizioni per sta per sta mitragliettina ok ora possiamo andare avanti no 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 non è consigliabile sta arma qua no dai teniamola perché ha poche munizioni è così cioè poi va colpo singolo c'è almeno come se non ha pissato la pompa ma non è che quella quindi non credo valga la pena cattissima questo mi piace vediamo dove? aspetta ora ti cerchino io fatto dove? dimmi dove che lo cechino dove è quello che cazzo? ma dove è quello cazzo? dove è andato? ci è buttato di sotto? ok non mi può fuoriare di meno tanto qua perché l'abbiamo fatto proprio per distogliare l'attenzione quello che ho fatto dove è finito? beh meglio così dai non voglio saperlo meglio ma scusa la cosa che ti hai qua non c'è niente mi sa che il corazzato è morto oh io non posso lamentarmi qua tapparelle chiuse ok no allora ecco qua ok ok non lo so esatto esatto ok colpa mia ma pensavo che dovevo scendere rifacciamo ok è stabile rossa regge vediamo se ce ne sono altri permessi infatti ok non usiamo il fucile finché non ci hanno fregati ma dove li vede ho rovesciato un paio di governi ah ah interessante oh 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 no è sabbia eh ma io mi domando come potrà uccidere ma non c'è niente ma non c'è niente ma quello è un drappo bianco ma dove li vede lui così ah e quello fa uno zitto ok 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 è stato avventato quanta volte sono morto in tuo gioco mi spero che oh almeno stavolta merda sarò qua breve dove laggiù dove io non vedo nulla ah ah due eh due cavolo ok appena si separano non si divono eh tipo questo no dove dove ma quello l'hai girato ok aspettiamo che no su su zitto ah ah due ne vedo ma uno ok osserviamo la situazione ce n'è uno e probabilmente uno anche lì sopra eh doveva star vietto ce l'avevo in pugno ma non credo c'è bene scoperti ci ha visti in un solo un conto se erano in due tre oh cazzo non posso io scappo vaffanculo su quel corazzato ok quando lo ritroviamo lo riempiamo di mazzato dove sei finito oh porca troia è quello lì è un uomo a terra qui lo sappiamo che sei lì eh sono qua ma non te lo dico aspetta ah delmetto dovevano togliere diligente se non togliere delmetto non puoi farli corpo a corpo lo stavo per prendere io ok ti provo io ne ho preso un altro esatto secchi nato a quickscope sbaglio c'è un ah cazzo ma vaffanculo c'ero poche tre le corazzati sono mastardissimi però tutto che rifare quello è la corazzata merda ce ne ho uno o due quel fucile aspetta aspetta ok aspettiamo che si distraga allora io non so se colpiero da qua oppure io proverei vabbè ma che vada ma che vada lo ammazziamo infatti ce l'abbiamo fatta è morto ora quali erano già da uccidere vuoto ok possiamo andare ah 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 eccole qua questi qua sono già sospettosi eh cazzo ne ho corazzato no quando si gira quello ah non è oh si si mi sa che è corazzato ok chi è uccidio capiremo non lo so non lo so non lo so più sì ok non so da chi andare ecco qua forse questo è qua esatto ah questo è ramazzabile ora dobbiamo fare in modo che quello non ci veda cioè quello non ci scopera ok fin qua vieni qui qui ecco qua così ok finiti tutti ok finiti e dove andremo a dove infatti cosa avevo detto io che non siamo mai solo noi a scoprire il tesoro se lo scoprono tutti dopo che abbiamo scoperto noi sì ma dov'è che devo andare dove no ma forse sì perché c'è una piglia no 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 quindi ecco vabbè dov'è ah eccolo là vabbè un casino per fortuna qua giù ah ah ok uno va a ver e adesso dove si va è appunto è appunto guarda la montagna eh già e allora andiamo così io direi di fare un giro ah eccolo qua ok dobbiamo ascire in due ah no paura eh scalino e dobbiamo essere quasi arrivati ormai aspetta aspetta no no mi sa che dobbiamo andare dove vabbè ah scala non l'ho vista aspetta aspetta non reagisce e basta quello ora dopo che si arriva di su cosa si fa eh già no cazzo ok riproviamo su e vabbè quasi dove emo a cazzo colpa mia e adesso dov'è che si va oh ci siamo blocati ah ok e si va sempre su quindi facciamo girare qua no meglio di qua e dov'è oh qua si gira vuoto ok ma adesso è una scala malconcia aspetta che mi da fastidio questo ah eccola qua ok siamo insieme alla torre su ecco qua e esatto fatto siamo arrivati dunque torre di guardia dobbiamo andare a cosa fa la guardia quindi cerchiamo qua che inizio è vabbè e ancora vabbè vabbè uè dove 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 ecco qua ok sembra una specie di esatto guarda che roba vabbè ovvio che lo sa quassù non c'è niente avete sbagliato cosa? vabbè poco male vabbè proviamo dall'altra parte cavolo dobbiamo uscire da qua andiamo su assaltini esatto esatto di qua come no vabbè un tesoro l'abbiamo trovato dove c'è andiamo? ah no eh si è sbagliato soldi soldi a parte i soldi c'è basta guardare sto posto no? è fondato sui soldi sto posto come tutto e non è che di qua si passa mi sa che dobbiamo ecco in questa parte ci sono un sacco di tunnel che devi stare grobo scommettiamo che no ah non ci sono guardie cioè personari e che sarebbe sta roba? è un po' casino appunto che che è successo qui ma che cazzo aspetta da questa parte da questa parte c'erano quelli di Avery si ho capito soldati soldati beh non è difficile immaginare che sia successo una specie di rivolta ma ok proviamo a vedere proviamo a vedere se c'è il tesoro se c'è impressionante si cavolo guarda che roba ecco qua cos'è questo ecco dovremmo essere in due addirittura le porte d'oro eh già ovviamente no esatto non è stato lui non ha toccato nulla per centinaia di anni giusto quindi cerchiamo in due sì cerchiamo in due mi diverto a girare la testa così ok ok smettiamolo qui ok il prossimo capitolo guarderemo chi è stato a rubare tutto e ci saranno altre mille capitoli prima di saperlo continuate a seguirci per seguire questi altri mille capitoli ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie.